Sono tre le parole chiave che guideranno il neocommissario del Parco Nazionale del Cilento Marcello Feola nella sua attività a ballo della Lucania, partecipazione, programmazione e soprattutto semplificazione. Oggi c'è un doppio regime autorizzatorio che penalizza i cittadini, che rende gravosa ogni iniziativa anche la più insignificante. Dobbiamo ridurre questo gravame amministrativo, semplificare l'attività amministrativa, concentrare il regime autorizzatorio solo nelle mani dell'ente parco, eliminare il parere paesaggistico della sovrintendenza per gli interventi che sono compresi nell'area protetta e concentrare tutta l'attività autorizzatoria nelle mani dell'ente parco. Programmazione È in corso di redazione il piano del parco. C'è un ritardo enorme, un piano del parco che è scaduto nel 2019, dopo che era stato redatto solo nel 2001. Sono 20 anni che è stato redatto questo piano del parco attualmente vigente e non è stato mai aggiornato. Lo dobbiamo adeguare alla modernità, alle nuove esigenze, introdurre anche qui meccanismi di semplificazione e farlo, realizzarlo nel più breve tempo possibile. Il ritardo che si è accumulato è inaccettabile. Partecipazione Avvicinare i cittadini all'ente parco. C'è una diffusa sfiducia, un disinteresse, una disillusione dei cittadini. Io ricordo nei primi anni della istituzione dell'ente parco i cittadini avevano salutato con grandi speranze, con entusiasmo. Oggi lo vedono come un carrozzone politico, come una grande comunità montana, per esemplificare la terminologia che viene utilizzata in mezzo alla strada. Noi dobbiamo rimettere questo ente al centro della programmazione territoriale e il parco deve tornare a svolgere il ruolo di coordinamento anche e soprattutto delle attività dei singoli comuni e dell'offerta turistica concentrando l'attenzione sulla valorizzazione del brand cilento che è cresciuto molto in questi anni ma che bisogna farlo conoscere ancora di più.